Per gran parte i giorni d'andata ci affrontano San Giovanni e Marignano, due squadre che sono stata appaiata al secondo posto dalla gradatoria per poi scendere di posizioni, attualmente quarti, padroni di casa, sesti gli ospiti, due lunghezze separano in classifica Marignanese e Copanese con la squadra di Lilli verrà surprise di questo torneo. Spazio ai giovani, largo al gioco collettivo e risultate a portata di mano, stanno pian piano portando all'obiettivo salvezza il giallo-blu, addirittura con largo anticipo. La gara affidata alla direzione di Di Lorenzo di Forlico, adiuvato da Sacone della stessa sezione e da Bartolitti di Cesena. Dopo dieci minuti di noia arriva la prima occasione del match, concretizzata dai padroni di casa. Carne Secchi appoggia per Santoni, tiro al giro di quest'ultimo, grande risposta di Catozzo in corner. Dalla bandierina angolo basso che sorprende un po' tutti, ma non Santoni che si fa trovare pronto la deviazione vincente, ma spara la sfera alle stelle. In contropiede si vede la Copparese, fida larga di più intenzione senza guardare in direzione Vanzini, qui traversone a favore di De Angelis e diviene un'occasione ghiotta per il numero 8, murato opportunamente dalla retroguardia di casa. La marignanese si rende pericolosa dal calcio piazzato, punizione di Santoni, sponda di testa a cura di Pensa al fine per l'inserimento sotto misura di Dominici, pallone fuori, ma l'arbitro su segnalazione fischia il fuorigioco. Rimessa laterale di Teloli, palla Mironsev, pallone alzato sopra la traversa dall'attento Azzolini. La marignanese usa l'arma dei contropiede, ma la sgallopata di Carne Secchi finisce largamente a lato. Lo stesso numero 7, protagonista poco dopo, con questo pallonetto a cercare di scavalcare Catozzo, ma la sfera non si alza abbastanza con i portieri che bloccano senza Patemi. Termina qui il primo tempo sullo 0-0. Nella ripresa dal calcio piazzato, pallone di casa subito avanti, ma Dominici manca l'appuntamento per colpire i palloni di testa. Fida invece dall'altra parte chiama la presa a terra Azzolini. Marignanese protagonista alla discesa di Santoni finisce per spegnersi tra i guantoni di Catozzo, quando due compagni più liberi reclamavano il pallone. Le difese si aprono, Fida serve Vanzini, ma viene colto l'attaccante in maglia numero 9 in posizione di offside. La partita si mantiene viva, la discesa di Grandoni non viene sfruttata a dovere da penso al fine che stoppa la sfera. Sistema il pallone, ma calcia debolmente in bocca a Catozzo. Ci sarebbero gli estremi poco dopo per il rigore. Fida in becchia e velocità Taribello, il quale mette al centro con Tafuro strattonato da Salvatori. Il replay appunto ci mostra il contatto del difensore in maglia numero 2 sull'attaccante in maglia numero 16. L'arbitro De Lorenzi fa segno di proseguire. Ancora Copanese in avanti, calcio piazzato battuto questa volta da Fida. Tafura domestica alla sfera si gira, ma conclude alto. Dall'angolo l'ennesimo pericolo a corso dalla Marignanese. Fida Scodella al centro, la difesa giallo-brua lontano in pericolo sul piede di Aguiari, che manca i gol per una questione di centimetri. Termina qui la partita con le squadre bloccate sullo 0-0.